Oh no, codice rosso, codice rosso amore, è tardi, muoviamoci. Io sono Zoe, DJ è ora di alzarsi, Aresh alzati. E lui è Paul. Buongiorno Dash, abbiamo fatto diventare le nostre due famiglie una sola. Buongiorno è ora di alzarsi. Buongiorno mamma. Svegliati Ella, ho questa foto, finisce sul tuo Instagram fra tre, due. Papà no, toccami e perderai un dito. Buongiorno anche a te. Luna, una scelta coraggiosa, ho un suggerimento, togli una cosa. Ottimo consiglio. L'asciugatrice è rotta di nuovo. Come sei arrivato così in fretta? Il condotto per la biancheria. Andiamo, andiamo! Non siamo una setta. Ma siamo strani, siamo unici nel nostro genere. Grazie. Grazie mille. Grazie. 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 Mi sembrava ci fosse qualche bambino in più qui dentro. Qualcuno non l'ho riconosciuto. Noi siamo i Baker. Dieci figli e neanche una tata. Aspetta, hai dieci figli? Vi scioccherà, ma mi piace stare con i miei figli. Piace anche a me. Piace anche a me. Piace anche a me. Siete divertenti. In camera vostra. Ma non vuoi fare il bello su TikTok con noi, papà? Perché siamo irresistibilmente adorabili. Non lo fate neanche bene. Dovete battere il dorso delle mani e lanciare. Siete fonte di imbarazzo. In camera vostra. Oh no, qualcuno mi dia la forza. L'importante è mostrare ai ragazzi un fronte unito. Chi ha invitato il Jackson Knight? Se cercate Disneyland, avete sbagliato uscita, credo. In famiglia ci si dà una mano. Oh no, ci guardano tutti. Amore, non riesco a muovermi. Lo so, lo so. Grazie di essere così accessibile, Paul. Con un aspetto nella media e un corpo normale. Via! A che state giocando? Drag Race. Oh, divertente. Adoro RuPaul. Oh oh, i miei genitori! Tutte fuori da qui! Ehi, ehi! Sto bene. Non è come sembra. Quindi non facevate una gara alla Fast and Furious per denaro? Wow, mi sono resa conto che non siamo più furbi di te. No. No.